A Teramo la Via Crucis, organizzata nella suggestiva cornice naturale del Teatro Romano, aperto come da tradizione le celebrazioni pasquali in città. Grande partecipazione di fedeli che quest'anno sono potuti tornare a vivere in prima persona l'evento religioso dopo le limitazioni degli anni scorsi per la pandemia. Le meditazioni ricche di significato e speranza scritte dai giovani delle 14 parrocchie di tutto il territorio comunale hanno animato la celebrazione tra il silenzio e la preghiera che si respirava nella suggestiva cornice dell'area archeologica. Durante l'evento un richiamo è stato fatto all'incontro con i giovani del 13 maggio a San Gabriele e quello con Papa Francesco a Roma della Diocesi che ci sarà il prossimo 17 giugno. Mentre domani, Domenica delle Palme, alle ore 18.30 si svolgerà la commemorazione dell'ingresso a Gerusalemme, appuntamento nella Chiesa di Sant'Antonio dove verranno benedette le Palme e i fedeli si muoveranno in processione verso la cattedrale per la Santa Messa presieduta dal Vescovo Lorenzo Leuzzi. Il 6 aprile è giovedì santo in Duomo, alle 10 la Messa del Crisma e alle 18.30 la Messa con la successiva adorazione ecolistica fino alla mezzanotte. Venerdì santo alle 4 del mattino torna la tradizionale processione della Desolata, evento teramano che noi di Rete 8 riproporremo con un più ampio speciale la sera del Venerdì Santo, mentre al 18.30 si svolgerà sempre per le vie della città la processione del Cristo morto. Sono questi i principali eventi in programma nella città di Teramo in vista della Santa Pasqua.